Buongiorno Mr. Galli, un commento sui ragazzi del Milan Camp di Cortina D'Ampeggio? Sky Sport 20? No, stanno lavorando con passione, con voglia, quindi siamo contenti, credo che anche loro si stiano divertendo. Stanno facendo fatica perché li vedo già stanchi la mattina presto, quindi questo è buon segno, vuol dire che stanno lavorando, ma direi che vedo che anche al di fuori del campo, che è importante, anche appunto quando sono tra di loro si divertono e mi sembra che abbiano socializzato bene, questo è un altro punto importante dei nostri campi. Va bene, la ringrazio, grazie a voi, grazie, alla prossima. Alla prossima.